I numeri da 21 a 60. 20 si dice VON. Sopra vedete come si scrive sotto la pronuncia. 30, adesso facciamo prima le multipli di 10. 30 si dice TRON. 40 si dice CARON. 50 si dice CENCANT. 60 si dice SOISSANT. Basta, ci fermiamo qua perché invece quelli del 70, 80 e 90 si compongono in maniera diversa. Ripassiamo i numeri che abbiamo visto finora. 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. Ripetiamoli. 20, 20. 30, 40. 40, 40. 50, 50. 60, 60. Bene, provate voi ora. Verifichiamo quello che vi ricordate. Ripetete i numeri mentre questi si coloreranno sullo schermo. Togliete l'audio per esercitarvi. 40, 40. 50, 60. 50, 50, 60. Ripetiamo ora i numeri compresi tra 21 e 30. Ve li ho scritti. E vedete che si compongono della prima parte, che è il numero multiplo di 10, 20. Bon. Poi c'è la seconda parte che nel 21 è diverso e sarebbe e, etan, e uno, 20 e uno. Invece per gli altri si mette un trattino seguito dal numero dell'unità. Deux, trois, quatre, cinq, eccetera. Quindi vediamoli. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nella stessa maniera si compongono i numeri compresi tra 31 e 40. Si mette prima quindi il 30, poi si mette per il 31, etan. Per gli altri invece si mette un trattino e il numero dell'unità. Deux, trois, quatre, cinq, eccetera. Quindi leggiamoli. 30 etan, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bene. Utilizzando lo stesso metodo riusciamo a comporre i numeri che vanno fino a 69. Per esempio 47 sarà 47, 59 sarà 59, 61, 60, etan. Vedete che col numero 1 si mette et anziché il trattino. 46, 46, 56, 55, 55. Ora verifichiamo quello che vi ricordate. Ripetete voi i numeri mentre questi si colorano sullo schermo. 58 è 58, 47 è 47, 26 è 26, 39 è 39, 31 è 30 etan. Grazie. Grazie.